Fare una cosa, tra l'altro se hai la live aperta guardala un attimo che ti faccio vedere anche a te per quando avvierai la live tu Come? Sto open pan Questo 01 è la? Chi è? Oh è in tutte le live Carta Ma dov'è? Anche nelle mie Sai come spettatori Può essere che sia un bot di twitch Sì Sì Ogni tanto è un po' buggato e tipo ora se io apro siamo soltanto io e te probabilmente come spect Se io premo su spettatori 01 Ella, Alice Y, Ra, Allienga, Command Root, un fottio me ne scontano Leggiano anch'io Ma non capisco perché è tutto buggato E' tornata pure Lily Lily in questo momento vorrei un pugno nella schiena proprio Io ho di quelli che mi piegano a metà ma non c'è Tutti Che brutta voce Chi? Sì Sì Ma deve essere proprio di quelli là che tu lo carichi capito Se proprio lo dai e io rimango così per 5-6 minuti Non me lo dire di mettere pronto, tranquillo Ora l'ho messo pronto No, io non l'avevo messo tu già ripronto di poco 10 ore fa No, ora l'ho messo pronto io È vero Te lo giuro, fino a mo' ero nelle impostazioni Sono stanco Anche se dormo ho sonno e sono stanco, non capisco perché Perché può essere che ci andiamo a collegare troppo tardi? No E' mezza Sì, sì, sì Sì, 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 sì Nessun problema Non ti preoccupare, non ti preoccupare Stavo guardando un'altra cosa Stavo guardando L'omino in sedia a rotelle Ah, com'è Ero rivasto scioccato per l'omino in sedia a rotelle Per questo non ti stavo rispondendo E lo volevo riscattare subito Sai, questo ci sta a bloccarti Un secondo, un tasto solo Ma non ho fatto niente Adesso puoi bloccarmi Che fatto? Niente Mandela non l'ho vista perché sto vedendo una cosa Non guardare Telegram però Ah Dimmeli subito, mi hai fatto buttare sbagando Sto lanciando anch'io nella neve No, io mi sono all'ancetta dove c'è la città Ah, andiamo nella città Mi dice di più Mi ispira Stavo vincendo poco Lilli Adesso puoi bloccarmi C'è tu Lilli Lilli Andrea, continua a distrarmi Questo partito è già perso Non ho fatto niente Mi ha detto ora mi puoi bloccare Mi sembra che l'hai inviato una Ti ha inviato un messaggio, si No, e Ma l'ho inviato prima L'inizio della partita Quando l'hai detto Sai quanto ci vuoi bloccarti? Io ti ho detto quali sono Beh Se lo dicessi Non sarebbero più Ho già detto che hai segreti Quindi già non è più un segreto Dai È un segreto quale segreto io Ma ogni tanto mi diventa Tipo Mi fa interferire il glitch rosso Davanti alla faccia Anche a te Meno male che non vedete cosa sto facendo io Meno male Mi sono autochiusa la porta in faccia Sono messa il cironzolo Ma non trovo nessuna arma Nessuna cosa mi È bella Si sente la parlata Molto italiana Di mio madre Si sente poco poco Cioè in realtà non la sento Ora che sto Mi sto muovendo Prima ho sentito Ma lievemente Proprio qualche parola Ma Era impercepibile Ma scusami Perché il mirino finisce dietro di me? Ditemi Boh Ti cercava Serena Ma riesco a scendere Cazzo Sere È morta No Io ho pensato a mia sorella Che era in live Non era la mia live Che non si poteva prendere la confidenza Che si rende Nella mia live Perché? Che ha fatto? Niente Perché inizi a parlare E non la finisce a te Vabbè non è un problema Lo fa tutta la famiglia Lo fa tutta la famiglia di Lily Sto lasciando che tu sei logo eroico Di tuo Eroico Tu vuoi questo Oddio c'è uno Oddio c'è uno O lui o io Però ragazzi Io mi dimentico che questa pistola qua Basta che tieni premute E sparare tutti i colpi Io li premo Uno alla volta Io pure Ma coschè Perché sono abituato così con le pistole Abbiamo un problema di fondo Sì Non c'è fondo Non c'è Così Qual è Perché vai avanti e indietro Perché Stare fermi Ci sia male Diceva il mio professore D'educazione fisica Che stava fermo in centro campo Mentre noi correvamo Ti giuro che il mio professore D'educazione fisica Faceva così Si metteva al centro del campetto Stava Fermo E ci urlava Dai ragazzi Correte Se ti fermavi Perché stavi morendo Magari Cosa E ti dice Sì Grazie Se ti fermavi Ti diceva Ragazzi stando fermi Ci si ammala Disse quello che sta fermo A dire a noi di correre Non si ammalava mai un giorno Però mi scialavo Con le inizie Sì Hai il cecchino Bravo Hai capito Chi è Ma Prima con quale cecchino Hai fatto L'uccisione Quello pesante O quello là Che mi hai fatto Prendere ora a me Era identico Dove sto andando Perché non so Quale fucile Scusami Questo di qua Era identico Ma Non sono salito Non sono salito Non sono salito Lo sono salito Quale cecchino Ah quello Ok E quello là Se prendi in testa Tipo così Sono 300 Ma non puoi capire Che sono di spazio Ucciderli Sì Con il fucile Precisione Veramente tanta Siamo in safe Per caso Visto che io Non vedo la mappa Sì E c'è una spada verde E una rossa Da L'altro Opposti Ma vicini Vedo Che facciamo Andiamo Sì Vado a prendere La verde Dove l'ho messo Il puntino Che cazzo È la verde Lì là Dove scendo Basta che Cammini un po' Sulla rotaia E poi Ti lanci Non ti fai male Allora Andiamo Dove è la mia Vuoi ridere No Ogni volta Che dici così Mi sta No Mi hanno appena rubato La spada Da davanti agli occhi Hai visto E c'è uno In città Quindi se Te lo vuoi fare Col cecchino Adesso sei Contenta E libera No non è vero Non me l'hanno rubato Ah no sì Ne hai spuntata Un'altra Più avanti E da questo lato mio C'è anche Il cos d'oro Ah Mi hanno rubato La mia spada Pure Lascia stare Da me Ne hai spuntata Una rossa Se vuoi venire Dove sei? Verso dove c'era Prima quella verde Però ora Quella verde È più avanti E quella rossa È più affanculo Stai avanti Forse Però C'è troppi eventi Messi insieme Cazzo Mi mettono Star Wars E attack on titan Insieme Finisce che Ovviamente Un puttanaio Di spade laser E gente che vola A sto punto Mettimi pure Dragon Ball Così Io me ne vado Con la camea Da cento chilometri Io prendo quella verde Che sono vicinissima Dicevano Sono vicina Ma io non la vedo Nella mappa Però Io ho già preso Quella verde Puoi venire da me Tanto poi Toveva essere Sicuri che non muoia Sto già arrivando Dall'altra parte Del mondo Sono quasi qua Ma non la vedo C'è gente che mi spara Eccola Andate da andire così Per favore Mi dobbiamo prendere la spada Tranquilla Io gli ho fatto 126 A questo Che lo ucciso E non ho tutto Lo scudo Delizio interno Nemmeno io Ficché non lo troviamo Non vale Che sui già Qua dietro Mi giro Ho visto anche la spada Ho mangiato i funghi Nel frattempo Eh Mi ha fatto ridere Questa cosa Anche perché Non vedo funghi Non è una frase Che ti senti dire Spesso Quanto sfocato Quel proiettore Lily ci sta osservando Da un proiettore Parecchio sfocato Quindi probabilmente Tra un'ora Avrà perso 6 o 7 diottrie Mario Mario puoi chiudere C'è uno davanti Ma è solo un coglione L'ho mirato fino all'ultimo Poi quando ho dovuto Sparare Ho tolto la mira Non sai Ok Ora C'era anche l'altro Eccolo C'è uno Sono due E l'altro è arrivato Dopo che ho detto C'è uno Quindi non ho avuto Tempo di correggermi Ma capisci La mia trella Davanti agli occhi Dove sei? Aspetta che sto Ah tu sei al massimo Perché a me non mi ci pensi Quindi Può starci No tranquilla Posso tranquillamente accettare Questa Questa cosa No Stiamo in live Non lo vedi C'è il Ciao C'è il Fucile d'assalto Se ti puoi interessare La sorella gemella No è quella stupida Io quella intelligente E chi è quella cattiva? Io Wow Siamo a un totale Ma c'è una cassa Incredibile lì Aspetta che No Lily Allora io sto lasciando Questo qua però Viola No me lo prendo io Che c'è quello blu Te lo stavo dicendo Proprio Ma che è fatto? Verso fuori Vero? Ma che c'è? Bu Se lo vuoi Ho sbagliato Ho preso questo Che? Ah no grazie Anche tu Perché? Mi ha fatto il mio post Ma io non vedevo niente Vabbè lascio la bomboletta E me la prendo io Io sto portando il Bombolone dello scuro Ah no io ne ho uno Che c'è grande Io ho questo qua No Allora dammi questo Che hai puttato Ok vedo da bini Che Che massa Non l'ho puttato Non lo sai Ah allora mi prendo la bomboletta Che c'è quello Eh si Per questo te l'ho detto E questo te lo avessi già presso Un po' che me la volessi Non l'ho detto perché tu avevi Detto che avevi la bomboletta E tu l'ho detto io L'oscuro Vabbè lascio C'è uno qua davanti eh Forse Senza forse Ci sono Una terra C'è il botte insieme al compagno Non vedo un cazzo Noi C'è la roccia davanti Mi sono distresa però Ho sbagliato di molto Sposte Sono morta Ultimamente Vedi di morire subito però Quanti messi ci ha messo Ma gli avevi tirato almeno un colpo Comunque è impossibile che vivano così tanto Ma gli avevi tirato almeno un colpo a questo Scusa Finalmente Sono arrivata anche argento Bini mi ha detto che sono parte del suo cervello Io a te ti ho detto che sei parte del canale Quindi Io te lo lascio così Quindi? L'intelligente è la famiglia Allora io volevo effettivamente porre fine all'esistenza dell'altro no? Con un colpo secco Ma qualcosa mi ha fatto dire No dai Risparmialo Comunque in tutto questo Sono contenta perché sono arrivata al 101 E sono quasi al 50% Quindi una partita vinte Sono al 25% Senti Lilli Ci leggi Lilli Lilli È comunque un onore secondo me Lilli che stai facendo? Sta guardando qualcun altro La live di un'altra persona Perché Tradirci Senza dire nulla Sarebbe Sbagliato Pensa tu che hai segreti con me E stasera me li devi rivelare Ebbene sì ragazzi La performer mi minaccia Sei tu il traditore? No Perché io non guardo Hai ragione Quante volte te l'ha detto che sei un traditore Andrea? Oh Lilli Te lo dico subito Alex E tutti i altri Neanche una volta Buggiardo Eh la chat parla chiaro Ho scritto traditore Se ne ha nessun risultato Non ti ho scritto proprio traditore Ma ti ho usato un sinonimo Te ne potevi uscire tranquillamente Te l'ho detto tramite audio Però Oppure ti ha levato da te rimossi Che hai fatto? Ti rimossi Allora io ho due profili Chi stai facendo? Eh? Ho due profili Chi stai facendo? Dimmi perché non possiamo correre il film Perché poi c'è Nino Ho stato il mio francesismo Io ti mando proprio l'audio che mi ha mandato Nino Io ho paura a dire no Non lo posso far sentire in live Adesso un poco Quindi lo mando Dove sei? Lilli Eccoci qua Questo è l'audio di Nino Perché proprio qui ci hai fatto fermare Ho due migliaia di persone già Per fare migliaia di punti Io non riesco a salire Se scendo sono morta Vabbè facciamo così Non sai più dove salire per forza E poi scendere Provate il bombolone Io me ne vado Mamma mia come sei tragica No Lilli Ciao Lilli Grazie per essere passata Che sei antipatico Questo è stato Tutti i lingotti mi sto consumando dietro sta stronza qua Perché? Perché ogni volta che arriviamo qui mi prendo il fucile di precisione infiammante Se te ne vai metto a piangere Lilli Ah una frase così con tutta Ciao Le persone Ciao Sono d'aiuto eh Come? Sono d'aiuto Sì Tu non mi vedevi ma mentre Subito dopo che ho detto se te ne vai mi metto a piangere Inizio a fare ciao Lilli Alla Ti facevo ciao Oh ah non me lo ricordavo Ma se vieni da me? Dato che pensavo che tu già ci fossi No Sono caduta Non ci sia Sì Ok Non riesco a salire Non riesco a salire Non riesco a salire Non sono riuscito a salire Ma scusami Dai, ma perché non sale? Dimmi pure Dì, se ti serve roba L'avevo appena usato E tu non mi hai aspettato Ma io pensavo che tu fossi già qua No, non mi hai portato Sopravvivi i cerchi della tempesta, uno di tre Se ne scappa ora che sei in tempo Eh, sta arrivando la safe, effettivamente No, in realtà, Lilli, io sono scappata prima volta Ma lui è... Non mi molla Che senso sono scappata prima volta? Ho detto che fin tempo scappa Sì, ma in che senso sono scappata prima volta? Vuoi ricordata la... No, è che non... Che vuol dire? Sono scappata prima volta Andrea, smettilo Sei logoroica Ma tu hai sbagliato a parlare C'è la tua pistola? Lilli, se ti dico sei logoroica ti offendi Più di una volta No, sono sicuro che abbia detto prima volta No E perché lei non si è corretta prima? Eh? Perché non mi ha corretto e non mi ha detto Guarda che non hai capito un cazzo Forse perché avevo capito benissimo Scusate ma mi sto perdendo perché Sono concentrati a seguire Lilli ha detto che si offenderebbe da morire Però... No Lilli, mi devi dare ragione Detesto quella frase No, io la dovevi dire Eh? Stai dando ragione Andrea Lilli No, perché lei non sa Il motivo per la quale io mi sono offeso Io mi sono... Tu continui a basarti sulla frase Io non mi sono offeso Offeso per la frase Offeso 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 Mi prendi a andare in giro per le mie frasi sbagliate Senti un po' Cammina o non ti parlo più? Perché sono andato la parte sbagliata E continuo a salire della parte sbagliata E la parte sbagliata? C'era qualcuno qua vicino fino a poco fa Mi segnava Adesso prende la spada Ah può essere No Non c'è 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 la spada ma non c'è lui Sta rianimando Astardo Andre sa che il rapporto... Devi smetterla di farmi parlare con Chiara tu Oh 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 In che senso? Perché la sorella di Lily Chiara non ha la R ha la L E io ho detto rapporto È ucciso No Non mi attacchi Sto sento a finire Qua Mezzo alla strada No C'è il cecchino C'è il cecchino C'è il cecchino Io che Come? Sto volendo... Di qua è il cecchino? No No Io sì ma ho soltanto un colpo Io non ho colpo Guardate che facciamo? Ci mettiamo sul tetto e aspettiamo qualche malcapitato Tipo quello che c'è sotto da te Tipo che non mi è arrivata la funina Non è neanche sotto Sai è a metà strada No Ne ho preso da dentro Eccolo Infatti avevi proprio ragione tu Ma Grazie Tieni i colpi del cecchino No qua 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 Tanto qua piove roba Perché quello che è morto è morto qua sopra Solo lui sa come ha fatto a incastrarsi qui Ah così Oh che bravo Grazie per avermi lasciato accedere con Figurati Ma ce n'è un altro Ma no Che c'è giù? Si Sta correndo nei campi Lo andiamo a prendere Meno male che non hai visto cosa hai fatto Che hai fatto? Ti stavi per ammazzare? No niente Ah sto dando fuoco a L'intera Amazonia probabilmente solo per prendere lui Eh no l'ho preso comunque Ora si Grazie Ma ce n'è altri Che sparano Dio solo sa da dove Fuochi Fuochi Ma sparano dalla montagna? Si dalla montagna Toh L'ho ucciso uno Il problema è dove sarà l'altro? Ci arrivo io lì su? No Se avessi avuto la spada epica si Allora Dovevo cercare la riva Come curarmi Un attimo Ma non ci posso andare perché sei nemici Prendiamo qui dentro Ok Lily sei sicura che io sappia che rapporto hai con quella frase? Non sono molto sicuro di saperlo Perché lei ha detto Sul fattore logorroico Lei ha detto Andrea sa che rapporto con quella frase Mh mh Eh io Non sono molto sicuro di saperlo Andrea non ti vergogni Cosa? A dire questa cosa Ma Fosse Lily già io ti avrei bloccato Ma Lily mi ha già bloccato un paio di volte Questa sarà la prima volta Ok Sopra Sopra Se Oh c'è uno da me C'è da me Nei campetti Che corre Lontano Forse sta andando a recuperare il suo compagno Che io ho ucciso prima E tanto lontano l'isolotto sia abbastanza Mi scusi lei ma dov'è? Sul grattacielo Quindi se la so E io come devo arrivare? Eeeh ti ricordi dove abbiamo parcheggiato la moto? Qua sotto di me Ma sei dove giri col motore? No non sei dove giri col motore E' quel cretino No no Sono morto Come sei morto? Sali su sali su E' una bomboletta Si Aspetta Niente Stavo controllando se ci fosse qualcos'altro Invece Stiamo ancora in safe? Si Da qualche parte Eccoli lì sotto C'è gente Io non scendo Non la posso prendere Non è niente per la distanza Neanche un fucile d'assalto No Che chifo Cambio palazzo io Ovviamente Io anche Mi sapevo alla fine che facevo Si Vediamo se c'è qua dentro Vediamo se c'è qua dentro C'è qua Questo qui però Capirai Che distanza No Una bomboletta Eeeh Basta Un ceneggio Andiamo sul tetto No Sul tetto c'è Un fucile d'assalto Che c'è? Ah Questo lo vende il fucile di precisione Se vuoi Sul tetto Lo faccio arrivo? Eeeh Io sono uscito dalla finestra Aspetta che ti venga conto Ecco Di qua Lui vende quello viola Lui vende quello viola a 250 Pure Anzi Quello che ho preso io costa 500 Lamentati Come faccio a prendere l'altro? Come lo faccio a prendere l'altro? E me lo faccio cambiare Sposti la levetta Vabbè lo prendo io to Sì A posto a posto Tieni Come a posto a posto Sta arrivando No aspetta ho sbagliato Non lo faccio a prendere E questo è un materiale da qua Tieni Dove ti preso? Ah no Non lo faccio Aaaaaa Non lo faccio a prendere Sono raggiunto Purì C'è gente da me che si spara Io me sto sbattendo Vado in safe Sto andando nella montagna Per vedere Scenderò Dalla montagna Scenderò Oh c'è uno sopra l'albero C'è uno sopra da me Più di uno sopra da me Mi hanno massacrato di legnate Perché ovviamente Arrivano a 4 a 4 da me Sono sceso io È assurdo Mi sto Scusami Andiamo via Vado a curarmi e poi ti raggiungo Vi sto Scusami Si Scusami Di Scusami Di Scusami Ma Il Questo è Ma Che Si Scusami io. Spettacolo. Che paura. Bene sì, hanno investito Serena. Ma il tempio rientra poi dentro la safe, vediamo. Un pezzo dell'isola. Dove vai? Qua. Io mi sono spostato con la jump qua sull'isola, dietro di te. Non scordiamo, questo cespuglio non ci muoviamo. Ne hai uno accanto mi sa. No, cazzato. Vai, stai nel cespuglio che se arriva qualcuno da te io gli tiro un colpo di cecchino e tu lo massacri. Grazie, però avvisami. Beh, grazie al pifferaio magico che ti avviso anche. Sto pensando al fatto che forse non è il caso che io spari un colpo di cecchino. Cioè io do fuoco alle cose con il cecchino, quindi. E vabbè, tu dai fuoco che io scappo con la... con la spada e con la 2. Ma tra l'altro è da te il... la safe. Uh, guarda, ce n'è uno lì sotto in fondo. Guarda, si è fermato il bastardo. Stava correndo fino a mo'. No, guarda, non mi ha visto. Quanto sono? Allora, una fuori. No, mi ha fatto per me. Non è uno qui da me. Davanti me. No, proprio per il cecchino purtroppo. E' nel 12, 13. Ma tu sei... cioè ti stanno venendo ad ammazzare? Sono due. No, sono due. Una con la spada rossa e una... Tu riesci a venire dietro la pietra? Sì, sto venendo dietro la pietra io. Ok, vedo che si stanno facendo i cazzi loro. Ferma. Hai qualcosa per curarti? Sì, perché sennò ti do il medikit. Tieni. Oh, no. Non giusto. Sei morta di nuovo tu. No. Riesco a uscire alla safe. No, non penso. Cioè, se ci riesci io non riesco ad arrivare in tempo. Non vedo la mappa. Uno solo. Oh, oh. No, quando vanno col piedi da me, sono caduti e mi sono ammazzato. Ora lui? Tutto a posto come nuovo? Dov'è la safe? Verso di là. No, alla strada. Questo vuoi safe. Sì, 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 sì. Ok. Ma sono pieni di succhi qui. Pieni di succo, Andre. Sì, 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 sì. Mi sta arrivando il nemico dietro. A questo punto do fuoco a tutto. Ma sei pazzo? E se muoio? Ma guarda quanto male. Cioè, non c'è una volta che mi manca. cazzo sei? Con l'einbot, mamma mia. Dai, perché quando premo per scivolare mi corre fermo, Dio Cristo? Io non lo so. Io premo per correre, premo per fare la cazzo di scivolata e lui smette di correre. Inizia a camminare sul tapirulano, lo stronzo. che è rosicata. Che senso? Ai, 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 non ti alzi. È un classico di capo. 98% per arrivare a 102. 62. Sono solito di più della metà. Però, minchia, che palle, ti giuro. Oh, Andre, poco fa, trovo da un ragazzo di Bella. Io ne ho ucciso cinque o quattro, non mi ricordo. E lui ne ho ucciso tipo sette. Ma era sempre più franco, ti giuro. Che vuol dire di Bella? Dov'è Bella? Di Bella nel senso che si raccollava che io non mi fidavo a giocare bene. E lui veniva lo stesso con me. Lo portavo nel caos del lui. Mi fai guardare il profilo di sto cristiano? No, vabbè! No? Oì! Lo sai che mi hai cercato? Oh, mi arriva una fonte. E mi fa, ma non mi cerchi più, ti sei fatta fidanzata. E c'è un messaggio fino alle 18.44. Ma? Io sono scioccato. E chi è? Faccio Andrea. Ah! Vabbè, lui. No, faccio nome e cognomi. Quello dei cantieri, va? Dai! Ah, è lui. Sì. Allora, per intenderci, è te. Facciamo questa partita e chiudiamo la live. Ok, chiudiamo anche le partite. Vai, basta, pure l'amicizia. E sei il traditore. Chi è il traditore? Oh. Perché? Che ho fatto, no? Gli orecchi. Che è successo? Allora, signora, il detto dice, prima di parlare, dove date gli orecchi. Gli orecchi? Quello dico in siciliano, come ha detto. Ah, Mary, ripetitati un attimo dall'inizio. Ma lei li se n'è andata? Penso che sì, penso che sia andata in live da Bini. Bini che con Bini. D'anni ai tuoi avversari con mitragliette o esplosivi? Sopravvivi ai cerchi della tempesta, ma. Vabbè, quello lo facciamo facilmente. Riccò, è anche giusto che mi dice questa cosa. Lo facciamo a portare in una safe. Beh, devi sopravvivere a tre safe. Ciao. Ciao, ciao. A me che non muoia ora. Spero di no. Ma la gente è già atterrata, ma scusami. Non mi sono affatto niente, giuro. Dai, già. Da tutti i lati, poi. E' sicuramente. Vabbè, vabbè. Già loro hanno le peggio armi del mondo. Dai, cazzo. Fammi salire. Non ho acqua. Quello già si è comprato il soffio di drago. Il mio soffio di drago. Che cazzo. C'è uno all'area che sta... Stando di scappare tutto. Ok. C'è anche il furgoncino qui. Sì. Infatti ora prendo la spada. Oh, il fucile viola. Però il suo compagno sarà qua vicino. Dov'è il furgone? Proprio quando esci. Ok. Ecco. Sono preoccupato. Ne ho uccisi due e mi guardano in quattro. No, ne ho uccisi qua. No, no. Ne ho uccisi due. Vabbè, due è tu e due è quello. Ma vabbè, c'è mia sorella che è venuto un gran po' nel piede. E non poggi il piede a terra. E mio padre ha messo e gli dice, ma perché non poggi il piede a terra? Non ci riesco. Oppure quando ti viene il crampo e ti dicono, tira, tira. Che cazzo tiro? Che sono bloccato, non riesco a fare niente. Non sto premendo nessun tasto. Te lo giuro, non sto premendo niente e mi spara da solo. Ma non ci sono. Dove sei tu? Dove sei? Si è rincoglionito il pad. Che ha posto? Più o meno. No, di nuovo la levetta. Ah, che incubo. Vado al tempio. C'è quello lì di prima al tempio, il compagno di quello che ha ucciso. Che sta scappando dalla safe. La safe. No, pure noi dobbiamo scappare. Non possiamo giochere. No, noi non hanno ancora fatto l'esenzione per la safe. Ok, l'ucciso. Quindi qui che è la safe? Uno me lo dovrebbe dare. Tieni, ho fornito l'incarico. Tieni? Alla c'è gli avversari. E' te? Accanto a te, dietro? Dai, no. Un minuto. Ah, poi la spada. Io non ho niente. Ora ti lascio la spada, tanto. Che sicuro trovo qualcosa. Invece non trovo niente, perché qua già ci sono stati. Ah, vieni, andiamo al tempio qua accanto. Se non ci sono già stati. No, mio amato è bellissimo. Ti giuro. Che ha fatto la mamma? Mettici il ghiaccio nel trap, poi. Poverino, però. Andrò quant'è che si è perata che gli succede. Mi sto prendendo il fucile. Che hai detto che stai prendendo? Andrò, mi sono perso. Mi sono preso il fucile. Mi sono perso, sai? Dai, mi preme il tasto a cazzo, Dio mio. Quando vuoi finirla me lo dici, eh? Dai, non lo... Ma scusami, ma sta cazzata da quando adesso la fai? Guarda. Un embolo mi sta avvenendo già, eh? Ho dato la spada. A posto. Il mio controller ha smesso di fare il cazzo che vuole lui. Non metterà sai fai. Ho filo. Ho filo. Ho filo. Dov'è io? Ma quando è la sua labbra? No, ci vuole un'altra volta Ma? Mia No, l'audio è baggiato della moto, non la sento Ah Grazie Non è ciò della strada Si Che cazzo sto albero Guarda là chi c'è Nemici Ecco ho dato fuoco la casa E non solo Eccolo Vedo Ma non No Bravissima, adesso ce n'è uno dietro di me Non è che mi sta facendo tanto danno Anche a me Dai, mi ha scelto Lei è dietro di me Non è di tu E lo conduce a capire Dove cazzo scappa quello? Eh, tua mamma Quella gran bella donna Aspettate No Non mi sta rincorrendo Invece Dai, pure davanti, vero? Lì, ricacci tu quelli allora Scusa, che cazzo volete da me? Ma Ce n'è sempre uno che mi guarda e che mi fissa Oh Dai Mi ha preso come mi ha dovuto prendere Dio mio, solo lui lo sa Va bene proprio, grazie a tutti quelli per essere prestati Grazie a tutti quelli per il supporto Grazie mille a Serena per la compagnia che ci ha fatto questa sera Noi ci rivediamo domani pomeriggio Che è venerdì Con non mi ricordo cosa Forse con nome in sky Sono arrivato al 93% comunque E ancora proprio mezza partita così E arrivo a oro Ci rivediamo domani pomeriggio alle 3 con nome in sky Che c'è? 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 Grazie.